Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale del venerdì pomeriggio con Eurotrack Simulator 2 e con la mod, perdon, con la DLC, con la DLC del Volvo. Allora, mi sono intanto, mi sono scordato di aggiustare il titolo, quindi andiamo a modificare, perfetto, ok. E allora, un saluto a tutti e benvenuti a questa live. Hi everyone, welcome to our rendezvous here with Eurotrack Simulator 2. Today we will go on doing our challenge trying to running around the European Union and I want to say again that For this challenge I have been inspired by Nazare Anesta. He have done a foot run around the Italian territory and you will find the link at the over his channel channel youtube channel in the video description here on twitch and as well on youtube Salute a tutti e benvenuti a notre rendezvous with Eurotrack Simulator 2 with the challenge of the Eurotrack Simulator 2. Today we will continue our challenge. I remind you that I was inspired by a streamer called Nazare Anesta Nazare Anesta, Nazare Anesta. He is a part of the region of Italy and he is a part of the region of Italy, quindi cerchiamo di fare una ricchezza come vuoi, ma differente, io utilizzo il Scania, quindi faccio una certa replica del mardi, quello che faccio il mardi con il Turbo Star, io lo faccio il vendredi con il Scania, grazie molto a tutti e benvenuti e grazie a voi anche che stanno vendendo queste video in replica su Twitch e naturalmente su YouTube, grazie a tutti e allora un caro saluto a tutti, saluto a tutti quanti e benvenuti a tutti all'appuntamento del nostro Viernery con il giro dell'Europa, oggi continuiamo il giro del Muster e dicevamo quelle che facevamo martedì quindi oggi facemmo una specie di come si dice? facemmo il giro per l'ostrazione, venivano poco con me Uberkurs ovviamente e naturalmente stiamo cortando adlc da volvo e ovviamente come sempre vaga precisà questa sfida perché questa sfida ci è pigliata Spund da Nazario Nesta allora muoviamo un attimo il percorso allora sta qua ok ok sì perfetto e questa è la prima tratta l'abbiamo modificata ok ok e andiamo e si parte partenza partenza e allora ditemi un po' voi che che state guardando questo video durante il fine settimana o in questo momento state guardando la vostra live la live wey Fernbus carissimo ben ritrovato e allora come avete programmato di passare questo weekend fatemelo sapere nei commenti voi che state guardando questo video in replica su Twitch a voi che lo state guardando in diretta qui su Twitch ma anche voi che lo state guardando anzi che lo guarderete su YouTube magari iscrivetemi come avete passato il vostro weekend visto che questo video sarà disponibile ovviamente su YouTube domenica mamma mia Fernbus mi ha fatto morire dalle risate per quel poco che ho visto guarda veramente mi ha fatto pisciare sotto dalle risate scusate la volgarità che ho fatto che ho fatto si è bloccato che si è successo ma allora scusate un attimo ma è andato in crash ripartiamo subito subito scusate ma c'è stato un problema tecnico e allora Fernbus dicevo che mi ha fatto veramente scompicere dalle risate comunque lo sai è bello il gioco questo qui che ho portato ieri della Lego è veramente è simpatico ho fatto veramente bene e un po' perfetto e allora ah visto che mi trovo ottimo direi Fernbus è un ottimo risultato è un ottimo risultato ho detto tieni sempre presente che il fine settimana è un po' particolare poi durante la settimana è la stessa cosa per cui secondo me è un ottimo risultato 9 spettatori è un ottimo risultato l'importante seppure ne fai di meno continuare come fai sempre insomma ehm porta qualcosa che ti fa divertire anche a te è importante che devi divertirti anche tu per poter divertire anche gli altri e quindi è importante un gioco che a te piace particolarmente portalo che ne so The Sims che mi pare che da un bel po' di tempo che non lo porti magari puoi alternare fare se fai tipo due ore di live potresti fare tipo un'ora un gioco un'ora un'altra per variare a voglia mi sono dovuto mi sembrava di avere mi sembrava di essere presente i cagnolini quando abbassi le finestrine e mettono il muso fuori e fa così mi sono andato a mangiare a cenare che c'è ancora il sorriso stampato sulla bocca anzi sulle labbra il viso veramente mi hai fatto divertire poi era simpatico pure il personaggio di Batman quella carissimo johnny ben ritrovato buon pomeriggio come stai qui con noi in questo momento c'è anche l'amico fernbus 08 grande fernbus oh bravo johnny vedo che anche tu stai portando ancora farming 19 io domani comincerò a portare il sabato il pomeriggio porterò farming 19 e poi scusami il 22 il pomeriggio e poi la domenica mattina come sempre andrò avanti con farming 19 con caffè in farm che è un format dove ci si incontra ci si scambia per chiacchiere un po' come quando si va al bar e si incontra agli amici alla grande carissimo johnny alla grande hai già programmato il fine settimana io qui diciamo che farò qualche altra un po' di un po' pure un po' di vita reale diciamo così quindi andrò a fare un po' di commissione in giro e poi mi mi dedicherò un po' a quelle che sono le attività qui ovviamente eh sui social e johnny allora l'importante è che ti diverti le passi con le persone con le persone che ti fanno stare bene ti rilassi poi e tutto il resto come si dice si può anche a momento ecco si riesce anche ad improvvisare l'importante è che uno si rilassa sperando di poter continuare a creare contenuti leggeri per voi insomma che siete oramai padroni del canale che siete voi tu john insieme a fernobus e tutte le altre persone io qua diciamo così sono come poter potrei essere una una figura rappresentativa insomma che cerco di ehm sto cercando di ehm creare un format insomma a tenervi compagnia ecco soprattutto quando magari guardate i video in registrazione quindi in mi replica sul canale ma anche su youtube e io lunedì diciamo che il giorno in cui ehm faccio il time out tecnico mi fermo eeeh ovviamente diciamo vado a pianificare quella che la programmazione della settimana quindi eeeh i vari giochi cosa fare eeeh se c'è eventualmente qualcosa da rivedere sai eeeh se me lo scrivo faccio degli appunti e poi dopo poco prima di andare in live su alcuni giochi che richiedono un po' più di eeeh fantasia ecco perchè magari possono sembrare giochi finiti tipo tipo ranch per esempio che eeeh martedì ho ho continuato a costruire ho ampliato il laboratorio tutte queste cose qua e insomma pare che eeeh sia sia stata gradita a sta cosa e ho avuto il piacere insomma di eeeh avere qualche eeeh visita in più sul canale e quindi ecco alla fine quello che che alla fine Zio Dab o Fabrizio fa quando si organizza il eeeh il lunedì ovviamente poi eeeh vado sempre a eeeh a seguire gli amici quando fanno lo streaming eeeh quindi mi vado a rilassare mi vado a divertire e poi come faccio con Fanmus ma pure con tanti altri amici streamer e poi magari eeeh se mi viene un prendo ispirazione da qualcosa che hanno fatto loro eeeh prendo spunte e laboro lo faccio e poi ovviamente lo dico eeeh che diciamo così mi sono ispirato a eeeh canale di eccetera eccetera un po' come sto facendo con questo format eeeh il martedì e il venerdì con eeeh con eeeh che vado in giro per l'Europa e visto che eeeh diciamo sei entrato anche tu eeeh eeeh ecco voglio dire che il format questo che sto portando io nel giro dell'Europa ho preso spunto da una sfida che ha fatto uno youtuber bravissimo che si chiama Nazario Nesta e che trovate anche qui su Twitch che devi sapere non so se l'ho detto già ma praticamente Nazario si è girato a piedi il perimetro dell'Italia eeeh eeeh ha fatto una bella sfida e quindi io me lo sto facendo con sia il turbo turbo star il martedì ma soprattutto con lo Scania quindi questo qui il venerdì è come se in effetti andassi a a fare una una esplorazione ecco dell'itinerario e quindi poi in base a questo mi vado a regolare anche eeeh sulla tempistica eeeh e quindi questo è alla fine ok ecco come si dice una bella ho fatto una capiglia scusatemi ma volevo ho approfittato per insomma per spiegare un po' come noi streamer o in particolar modo io mi organizzo ok 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 allora passiamo per bonifacio le bocche di bonifacio e poi dobbiamo tornare indietro e proseguiamo bonifacius come siamo messi qua col mezzo col mezzo mi pare bene a proposito non ho fatto ancora vedere ovviamente tutto questo non si vede sto portando avanti il venerdì eeeh sto portando avanti le consegne con la dlc eeeh della volvo che ho avuto l'opportunità di acquistare sia la dlc per eurotrack che per american track praticamente l'ho pagata eeeh 4,99 anziché 9,99 insomma ne ho comprati due al prezzo di uno ho visto l'offerta e siccome c'è anche american track ho approfittato il prezzo è ottimo e ho detto me lo prendo quindi magari se sei pure tu se ti piace insomma sta cosa sta dlc costi mezzi puoi sempre fare una capatina e vedere ma comunque i 5 euro li vale tutti eh i 4,99 e ovviamente sto aspettando pure che esca la mappa la dlc della russia eeeh da quanto l'hanno annunciato diciamo al momento non ci sono notizie certe per quanto riguarda la data di rilascio quindi questa cosa mi fa ben pensare anche perché mi ricordo che quando doveva essere rilasciata rilasciata la famosa dlc eeeh iberia è stata rilasciata se non ricordo male un anno un anno e mezzo dopo però devo ammettere che hanno fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda il comparto luce queste cose qua quindi mi sa che con la mappa della russia mi sa che ci proporranno qualche altra cosa di bello o questo sentore quindi ho parlato con Johnny Muratore e mio amore Fenbo Zirate su la dlc di russia e ho detto che quando annunced il rilascio rilascio un po' monec fa ma ricordo che quando il software annunced che erano rilasciare l'eperian map di annuncement al real pubblico pubblico un anno e un anno è passato prima di rilascio e hanno fatto un ottimo che credo che vediamo nuovi rilasci quando il nuovo dlc sarà rilasso ovvio l'epoca peccato fare queste strade di notte perché si vede ben poco ma io le ho già ripercorse di giorno qualcosa di spettacolare e ovviamente sono i multiplayer in questo momento mi sono dimenticato di scriverlo per mp però va bene così tra hsmp a un momento poi molto probabilmente farò una live dove proverò per la prima volta il multiplayer ufficiale con la mod del turbostar di raff garage e quindi al momento siccome non ho la certezza appena poi sarò sicuro e certo del buon funzionamento e allora tenteremo anche l'avventura in multiplayer con la mod del mitico raff garage bello e feedback che hanno inserito nel programma quindi eurotrack ovviamente bisogna fare una doppia regolazione sia sul software che gestisce il volante sia ovviamente il force feedback che si trova all'interno di eurotrack quindi va ammorbidito un pochettino per quanto riguarda le impostazioni base quindi nel software di gestione del volante poi va regolato il force feedback direttamente nel gioco e so eh I was talking about the new features of the features of the game and this force feedback now as I always say eh is very realistic but you have to set up the main program first of your steering wheel and then you have to use the one of the game you I will suggest you to to let the on the main on the main game sorry on the main app of your steering wheel let I will suggest you to sort the all the parameters so the springs or something like that and you will you have to set up in the software sorry in the game you have to reset up a second a second time because you have you will feel the steering wheel may be so hard to to turn and so you have to do this and so you have to do this and then I said that for having a very good feedback with attack simulator 2 or in general the game of simulation of conduit condition pardon but I'm my French you have to régler 2 fois the force of your volant so in the program of your volant and then in the game you have to I recommend to make a little more leg the volant then le logiciel de dans le logiciel de votre on puis vous devez régler comme comment ça va vous plaire les paramètres dans le jeu et voilà iscriviti al canale Dov'è che devo andare? Dritto, ok. E' qua. A fare il fobolillo e mi perdo. Ok. Allora, adesso dovrei imbarcarmi a Porto Vecchio, se non mi guarda male. Abbiamo percorso tutto il perimetro della Pocorsica qua. Aghiaccio, aghiaccio. Stiamo scendendo allora, si, si. Dritto, Calvi Risorta. Ah, Calvi, Calvi. Ah, ci vedo. Calvi Risorta che mi pare che poi vince di Caserta. Quindi prende il nome della città e poi Risorta. Allora qua. Lisette. Lisette, miei Deoli. Lisette, non ti vuole, diceva il grande Totò. Nel film un turco napoletano. Quando Carluccio, uomo di ferro, doveva sposare Lisetta, che era la figlia di Pasquale il fruttivendolo e Totò nei panni del turco napoletano, diciamo, quando ancora non era stato svelato dal complice della sua identità. Diciamo così. E che aveva preso il posto di un turco all'inizio del film. Si vede questo turco che Totò insieme a... che si chiama... il personaggio si chiama Felice. Ehm... Viene... e allora Felice evade dal carcere e ci sono tutta una serie di battute del tipo evasi, evasi da notte. dove si fa il... il grande Totò faceva sempre delle battute a doppio senso ma molto fini. Poi ci stava a far vedere che escono e vanno... vanno... vanno a casa del complice e poi inizia... incontrano un turco che chiede... eh... a che ora passa la corriera per Sorrento. E così loro... lo portano in casa. Diciamo così, Totò il personaggio di Felice prende i vestiti del turco e va lui a Sorrento a... a lavorare al posto del turco. E poi da lì... eh... ci sono tutta una serie di cose divertenti. Se non conoscete il film che si chiama Un Turco Napoletano... vi invito a guardarlo perché è veramente... ehm... molto divertente. E... se non ricordo male... era una commedia di scarpetta. Infatti all'inizio del film lo dice. Mi raccomando... Sceguitelo questo... andatelo a vedere questo bel film di Totò. Oltre a Miseria e Nobiltà che è un altro film che mi piace tantissimo. Un Turco Napoletano. Porto Torres. Allora qua... vediamo un attimo una cosa... E infatti... E' bello lunghetto questo giro. Allora poi arrivato a... Palermo. Ok... Vabbè 800 km poi... Sono 700 km... Circa 700 km su strada. Ok... 146 km... Dalla... Distanza dal prossimo checkpoint. Ok... Continuiamo. Ok... Pagliare. Pagliare. Grazie. Pagliare. fanbus ci sei ancora come abbandonate e allora se non conoscete fanbus 08 vi invito a seguire il suo canale fanbus 08 il canale mio carissimo amico streamer molto bravo insieme anche gli altri amici streamer sono eccezionali anche lui eccezionale io sono l'unico dilettante qua che ci prova a imparare ecco devo ammettere che questa sfida mi sta particolarmente appassionando anche perché poi si percorrono dei posti in cui ci siamo già passati però magari non abbiamo restato attenzione e quindi magari ci siamo persi dei 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 paesaggi o cose così so i think that i rerunning those streets that i have already ran so sometimes 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 i i can see other things that the first time that i passed and run on those on those streets i i didn't i didn't saw them i didn't saw them and that's why i i appreciate and i like so much to do this kind of to do this kind of tours or trips so i i also i 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 un relais e già parcouru parce que parfois nous sommes un peu distraught et puis on note pas des détails et donc quand on les parcourt pour la fois ou autrefois on commence à être un peu plus attentif au panorama ou autre chose et donc on remarque beaucoup plus de choses et ça c'est vrai pour moi naturellement non c'est n'est pas 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 Sardegna, se non ricordo male. I famosissimi granadieri di Sardegna. Ma io dico sempre albissardua. Carica... abbiamo caricato. Speriamo di percorrere la di giorno con il Turbostar di Rafgarge, che vi ricordo che l'appuntamento è per martedì. Ho spero che sarò su queste strade o strade, con la luce di giornata. Inoltre sarò con il Turbostar di Rafgarge, il settembre. Per vedere la vista, il panorama, come diciamo in italiano. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. E allora, poi vi spiegherò, prima di chiudere la live, vi farò un breve tutorial su come si utilizza il sistema qui su TrackSMP che vi permette di creare dei viaggi con le tratte e carichi personalizzati. Ora, prima di cerco di fare il live streaming, vorrei vedere come per fare un trip che installere un trip per整o, per gli utenti ammogliano. Trac SMP application. So it's a route and material to transport. So I'll show you how to program this video, if you are interested in learning how to program it, it's very very easy. This is the alternative to a virtual expeditor and what I will teach you with Trac SMP, custom tracking. You can do this with the virtual expeditor, but here integrated with this wonderful application, this wonderful Trac SMP. You will not work hard, you will do this in 4 steps or 5 and you will have everything you need to run and to be happy to run on ETS2. Ok, here we go. 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 Ok, so, let's see if you're doing something I need to learn from... Ok, here's the first thing I'm doing. Ok, so... Here we go. un'azione di un viaggio personalizzato che in coppa attraccca smp e la stessa cosa praticamente è quella che si fa normalmente quando si utilizza virtual speditor con l'unica differenza è che qui è tutto integrato quindi è nata a fare un'annata tra sigla, scisa, qualcosa su cinque passaggi e poi notte fatta che il nata fatti un niente ma va a farlo spiegare un pari volte è così poi eventualmente faccio pure un tutorial con un coppa youtube così se qualcuno di voi aveva bisogno trovo un coppa youtube allora mi pare che direzione sassari no cagliari sì sì no palermo sì sì palermo credo Sassari, 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 Pastia, Palermo, sì sì sì, ok perfetto, quindi stiamo andando in direzione a Palermo, a Palermo, o c'è Pegaso, seconda compagnia Pegaso, ok, eh sì, mi ricordo di queste strade, vediamo se riusciamo a fare qualche ripresa dall'altra, ecco qua, qui dobbiamo scendere, no, sembra di stock, abbiamo lasciato la città di Olbia, un saluto a tutti gli amici sardi e gli amici siciliani, ovviamente un saluto a tutti quanti voi, amici italiani e non italiani e voglio ringraziarvi perché soprattutto grazie a tutti quanti voi che questo canale cresce anche quando sono offline e approfitto anche per ringraziare Fermus che mi è passato a trovare, ora non so se ancora qui in diretta, voglio ringraziare anche Johnny Moratore che come sempre nelle live pomeridiane mi passa a salutare ed è un grande 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 piacere per me, il fatto che passate a salutarmi qui vuol dire che mi stimate come persona e per me questo è una cosa fondamentale quindi credo che ho apprezzato che quando hai passato qui, durante la live streaming o durante la rerun e che hai lasciato un messaggio, tu scrivi un messaggio qui, è molto molto grato per me, perché quando una persona è dedicata a te un po' di loro tempo, se non c'è un messaggio, ok? magari è Delizia l'unico, perché io sento il contatto a te? e magari è il motivo di essere l'unico che ti siete un po' di loro ed è quello che io apprezzato moltissimo while a person type a message or come in the live streaming or in my rerun and leave a message just to say hello or other things thank you so much Pegasochile ha appena iniziato a seguire il canale grazie per il follow we Pegasochile grazie mille per il follow benvenuto benvenuta nel canale e benvenuto allora non so se c'è qualcuno dei moderatori in chat quindi facciamo ti do gli onori di casa allora perfetto hola ah you were beside me my friends now I am I am raising about the your message she is from napoli south italy welcome Pegasoh tu eres direccio mi sorry I don't speak Spanish welcome Pegasochile ah Pegasochile chile ok thank you so much much gracias para il follow benvenuto nel canale come si dice in spagnolo buona strada buona strada buona strada buona guida Io non parlo molto bene, ho un pochino di parabli in mia testa. Tu eri il diritto di me nella prima parte della strada. E' molto difficile per me comprendere. Non parla un pochino di inglese. Disculpami ma io non comprendo tutto lo spagnolo. Se lo entiendo, se lo escucha, un pochino lo entiendo. E' scritto? Non so se si dice. Ah si? Non lo comprende. Eh... No bien. Disculpami ancora. Io iba trust tuyo. Io iba... No. Ok. 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 un pochino lo si lo entiendo un pochino lo comprendo me ha scritto non so come se dice proprio non lo comprendo ma tu eres muy simpatico grazie, grazie no, no habla ingles? you don't speak english? google translator bueno, bueno, google translator traductor de la lingua yo estoy hablando, no puede usar google ma... ehm... ehm... come se dice mi sto facendo ambarar mi volevo fare ambarar un poco spagnolo spagnolo esto es neapolitan tu conoces la villa de Napoli? al sud de la Italia yo soy civista la radio cibi eh... la ciudad de Alicante eh... 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 la canaria la radio cibi anima muy muy fuerte aquí en Napoli cuando ya está la propagación de la... de las ondas... eh... de la sonda electromagnética la sonda radio Napoli 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 es una... meravigliosa... ciudad de la ciudad he estado en España pero hace muchos años cuando era un niño he visitado Barcelona eh... I will hop... eh... I will... eh... I will... my desire is... eh... eh... visiting again... eh... Spain and... eh... Spain peoples are like us napolitan eh... la... la... la persona española eres un poquito como los napolitanos alegra eh... muy caliente eh... muy afectuosa eh... todo el mundo es... eh... eres afectuoso eh... 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 che viene dal spagnolo la currea la correra in questo momento non mi ricordo le altre parole ci sono più di 100 parole dal del vocabulario da le parole parabli dei napoletani disculpi per le parole spagnolo non bene bene io lo sì come si riesce io sto io sto voglio mi far comprendere ma non conosco altra parabolas sorry non parlo molto bene ma ho la lingua spanish ma spero che capisci 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 che ho detto allora qua questo l'ho esplorato si capisci capisci buona buona strada e buona buon fin di semana a chi saluto della provincia di Napoli e come si dice dalla radio capisci 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 chassi capisci addirittura dal chile grazie hasta la prossima la prossima muchas gracias por el follow e muchas gracias por la la chiacchierata aquí en directo thank you so much thank you thank you for talking ecco perché provo a fare una live multilingua that's why I try to do a multilinguage bye bye ciao that's why I try to to do a multilinguage live streaming or contents because I don't want that nobody will feel alone and feel excluded by by me while I I am talking to people during my content creating and then and then that's why I produce my videos here on the web multilinguage perché come avete visto, ho avuto l'occasione di incontrare un amico espagnolo e penso che sia molto importante non fare un scluso e quindi se faccio se faccio se faccio se faccio se faccio e quindi è per questo che ho faccio e continuo quindi e allora oh palermo ci siamo quasi adesso dobbiamo scendere dal eh si palermo mi pare che c'è quindi siamo arrivati sulla punta a palermo oh via palermo ecco qua e allora intanto approfitto per ringraziare come sempre tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia durante questa live pomeridiana approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia per ringrazio per ringrazio per ringrazio l'amico eh per essere passato in live a salutarmi vi ricordo che è l'appuntamento con Eurotrack Simulator 2 eh per quanto riguarda eh l'appuntamento con l'Oscania quindi è il venerdì prossimo mentre invece il nostro consueto appuntamento e primo appuntamento della settimana con il Turbostar di Ruff Garage invece è martedì dalle 15.30 in poi e eh se siete interessati ad acquistare Eurotrack Simulator 2 oppure altri giochi scontati fino al 70% eh multipiattaforma quindi parliamo non solo di computer di pc ma anche playstation xbox eccetera nella descrizione dei video sia qui che su youtube troverete 5 link eh fra cui ci sarà il link per il sito dove poter acquistare giochi scontati fino al 70% e poi ci sono anche altri 4 link che sono i miei canali social youtube facebook instagram e naturalmente twitch quindi eh l'appuntamento con Eurotrack con il con l'Oscania e per venerdì prossimo per voi che state guardando questo video in replica ehm non lasciate il canale perché ehm al termine di questo video continua la programmazione e questo video ovviamente sarà disponibile su youtube ehm domenica a mezzogiorno grazie grazie ancora a tutti restate sintonizzati perché adesso come il mio consueto faccio come consuetudine ehm faccio il giro multilingue poi una volta arrivati a destinazione poi ci congederemo e quindi qui quindi quindi so thank you so much again for your company during this live streaming I hope you have enjoyed my company if you are watching this video on rerun here on Twitch or if you are watching this video on YouTube ehm if you are watching this video on rerun please don't leave the the video the channel the because our programmation will go with other videos so you will watch this video on YouTube on Sunday if you are interested to buy this game or other games with low price up less 70% minus minus 70% you will find five links in the video's description here on Twitch and as well on YouTube that are the link where you can buy games multi-platform with low price up minus 70% and other four links that are my social media channels YouTube Facebook Instagram Instagram or Instagram and obviously Twitch thank you so much again our rendezvous with the with the autotrack it's for next week on Friday at the same time then our first rendezvous with our Aerotrack simulator and the first one of the week it's for Thursday so thank you so much again now I will talk to my French friends in Neapolitan and then I will I wish you all the best in Neapolitan and and then thank you very much for your company I hope you have well my company during this direct or if you are watching this video in réplique let me know if you are well my company our rendezvous with Eurotrack Simulator 2 with Scania it's for Monday next our rendezvous with Eurotrack Simulator 2 with Turbo Star Draft Garage c'est pour mardi toujours à 15h30 puis si vous êtes intéressé à acheter ce jeu ou autre jeu après réduit dans la description du vidéo vous allez trouver 5 liens que sont le lien projeté de jeu multiplaformes après réduit jusqu'au moins 70% puis vous allez trouver autres 4 liens que sont les liens pour visiter mes canals social media YouTube Facebook Instagram et naturellement Twitch donc notre rendezvous c'est pour la semaine prochaine toujours à la même heure et puis si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique s'il vous plaît ne quittez pas le canal à suivre ça va continuer la programmation donc notre rendezvous la programmation va continuer cette vidéo sera disponible sur YouTube dimanche à midi je pense que j'ai dit tout merci beaucoup et maintenant je vais parler en napoletain puis on va se saluer donc merci beaucoup une autre fois ne quittez pas le canal merci et alors on va on va l'appuntement avec l'eurotrack simulator 2 avec le scan et puis les prochaines on va l'eurotrack la programmation et donc l'eurotrack simulator 2 avec l'eurotrack avec l'eurotrack garage ce vidéo est vous pouvez voir dans la boîte YouTube la semaine à 12h puis si vous êtes intéressé sur le site 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 instagram e ovviamente twitch per voi che state guardando questo video in replica non veniate non lasciate il canale perché appena fornisce questo video continua la programmazione del canale e quindi romenico potete guardare ho trovato video in coppa youtube tutte quelle che oggi la descrizione dei video sia in coppa trice che in coppa youtube e quindi ancora una volta io vi ringrazio a tutti quanti thank you so much again merci beaucoup grazie mille a tutti è stato buono grazie mille